Ieri sera sono stato all'anteprima stampa di Bo ha paura, un nuovo film di Ari Aster e sto per fare la recensione, no spoiler, quindi tranquilli, del film che sarà una recensione per cercare di farvi capire se il film fa per voi perché questo è un tema cruciale se vi piace il cinema, il cinema horror, il cinema thriller mettete un follow al canale e adesso abbiate pazienza un attimo che cerco di pensare a cosa vi devo dire e poi torno a leggere la chat e torno a fare tutto ringrazio tantissimo Ariadni per il ride appena poco prima della recensione allora, allora, togliamo la chat un attimo così mi distraggo meno facciamo questo esperimento allora, il 27 aprile esce nelle sale Bo ha paura il nuovo film di Ari Aster Ari Aster è il regista di Ereditary e Midsommar che sono due film abbastanza conosciuti sono due film horror quindi mi viene già da dire una cosa è un regista che piace ai fan dell'horror? assolutamente sì e anzi, sta diventando proprio un idolo per i fan dell'horror però, attenzione attenzione, la prima raccomandazione che vi voglio fare attenzione perché Ari Aster qui non sta portando proprio un film horror già Midsommar era un film non propriamente un horror classico anzi, lo definirei proprio un new horror qualcosa di molto particolare anche se in Bo ha paura ci sono dei momenti dove ci sono dei momenti di sangue di splatter non lo definirei proprio un film horror perché l'atmosfera non è quella e quindi la prima cosa da fare quando si va a vedere un film come questo è decidere in che tipo di pubblico essere quindi se andate al cinema per passare una serata tranquilla divertirvi farvi due risate o prendere due spaventi molto in tranquillità e uscire e tornare a un'ora decente questo film non fa per voi perché uno perché è un film di 2 ore e 59 minuti più lungo di Midsommar incredibilmente mi viene da dire il prossimo di quanto lo fai di 3 ore e 20 impressionante però primo dato che il lato mio sono riuscito a vederlo tutto senza individuare il cosiddetto momento morto il cosiddetto momento di di calma quello dove ti annoi un po' che di solito è al centro del film c'è un momento in cui non dici ok ma basta non è che inizia ad andare verso la fine dato che i film sono fatti a capitoli anche se non siamo esperti di di scrittura di film di sceneggiatura il nostro cervello è abituato però a un certo tipo di di andamento e quindi al certo punto dici ok ora arrivaci invece in questo film è talmente fuori dalle righe come modo di essere scritto è proprio scritto in modo diverso dai classici film intanto non è in tre atti per dirne una non riesce a individuarlo ha un suo procedere costante che non non entusiasma quindi non crea momenti di apici di entusiasmo ma non non annoia neanche almeno questo chiaramente dipende se nel frattempo riuscite a essere curiosi per ciò che accade sullo schermo Bo è interpretato da Joaquin Phoenix è un uomo adulto che vive in un condominio fattiscente in un quartiere abbastanza malfamato che deve andare a trovare la mamma perché ogni anno quando è l'anniversario della morte del padre lui prende un aereo e e va a trovare la mamma però è sempre un grande dramma per lui perché lui soffre di ansia è paranoico e soffre di ansia e è sotto psicofarmaci e ha ha una terapia con una con una psichiatra quindi è una persona fondamentalmente devastata psicologicamente quindi il tema principale del film è scoprire ovviamente la curiosità già dal trailer si capisce che che Bo è un disagiato e quindi già dal trailer si capisce che la curiosità sta proprio nel capire come ci è arrivato ad essere così e che cosa succederà cosa gli capiterà quale sarà l'evoluzione del personaggio questo tipo di film è un film che va oltre anche a quello che abbiamo visto in Midsommar dove Ariastere ha deciso di prendersi tantissimo tempo per mostrare rituali che al pubblico sono sembrati noiosi al cinefilo al critico sono sembrati utili a costruire l'atmosfera a costruire i significati di quello che accade a spiegare quello che accade qui accade la stessa cosa ma in un modo che vi sembrerà del tutto irrazionale io l'ho definito un film diciamo per usare dei termini veloci l'ho definito un film delirante ma intenso il primo atto del film è intelligentemente pensato per istruirvi su come ragiona Bo perché Bo è un malato mentale è un appunto soffre di fortissime ansie si sente perseguitato vede il pericolo ovunque quindi voi dovete capire come funziona Bo e intelligentemente Ariastere imposta il primo capitolo per farvi capire come ragiona nel momento in cui capite come ragiona potete iniziare ad essere Bo e non sarà bello sarà sarà un po' un po' uno sbatti essere Bo perché Bo soffre soffre a paura di ogni cosa e vive un fortissimo senso di colpa poi non mi fermo qua ovviamente l'interpretazione di Joaquin Phoenix non sto neanche a dirvelo è monstre è qualcosa come sempre super top mentre andavo al cinema mentre lo vedevo non so perché mi è venuta in mente questa vicinanza con Robert De Niro e ho pensato Joaquin Phoenix sta diventando un po' Robert De Niro cioè nel senso che è un trasformista nel senso che perde chili per fare aprende chili per fare Bo perde chili per fare il nuovo Joker si parla di 20-30 chili non pochi comunque ha un metodo recitativo in cui si immerge particolarmente nel personaggio e tira fuori delle performance incredibili e inizia ad avere anche una certa età quindi ha accumulato diversi tipi di interpretazioni ottime e si può dire che inizia ad avere veramente una carriera importante ai livelli appunto di grandi attori quindi mi è venuta questa cosa qua anche il resto del cast è interessante troverete delle facce comuni non sto elencarvelo facce comuni scusate delle facce note però è molto bello apprezzabile per esempio ho apprezzato molto un ricambio totale del cast non mi piace molto ciò che fanno alcuni registi però questa è una questione appunto molto personale di gusto come Jordan Pile che si portano dietro la cricca come appunto anche Eggers trovo che sia una dimostra sia un pochino meno cioè trovo molto più coraggioso da parte del regista intraprendere una nuova avventura con attori che non conosci e quindi è molto più difficile mentre penso che sia un po' comodo portarsi dietro le persone con cui lavori bene e sei sicuro di lavorare bene e quindi li trasformi o scrivi i personaggi su di loro qua c'è tutto un ricambio del cast ed è una cosa bella Bo è in realtà ecco parliamo dell'autorialità di questo prodotto Bo in realtà è un film che Ari Aster ha scritto nel ha iniziato a scrivere nel 2011 perché è un cortometraggio infatti sto cercando di recuperarlo sempre se è una cosa legale se si può vedere legalmente perché sono curioso di vedere un po' quelle che erano le suggestioni dell'epoca che ha riportato nel film però è un film è un cortometraggio che lui ha già girato nel 2011 che chiaramente è molto meno complesso e si dilunga molto meno però appunto quest'idea è una sua vecchia idea che ha messo sul piatto quindi questo mi ha fatto mi ha fatto venire in mente un'altra cosa curiosa per chi ama Ari Aster e si può fare un film sui possibili progetti futuri c'è un film molto molto inquietante di Ari Aster che si chiama adesso vi leggo il titolo che si chiama The Strange Thing About The Johnsons che è un film dove veramente inquietante un film un cortometraggio dove una famiglia afroamericana il figlio maschio molesta sessualmente il padre suo padre è una roba veramente inquietantissima è uno dei film che ha fatto conoscere Ari Aster perché è girato molto bene è scritto molto bene e è molto coraggioso molto inquietante la mia la mia intuizione è che Ari Aster almeno vedendo che ha voluto portare Bo trasformarlo in un lungometraggio che potrebbe anche trasformare questo inquietantissimo soggetto potrebbe essere uno dei suoi progetti futuri visto che sembra essere una persona che non molla l'osso come non so se avete capito il concetto allora Bo ha paura non è un film per il grande pubblico non è un film di intrattenimento non pensate di andare a vedere Bo e divertirvi nonostante ciò è un film che al suo interno ha un umorismo nero è un umorismo nero davvero assurdo davvero assurdo e molto utile anche a stemperare certi momenti di ansia di 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 tensione che Bo riesce a trasmettervi perché fondamentalmente voi lo scopo del regista è farvi essere Bo e farvi essere Bo e questo film potrebbe piacervi molto e potreste capirlo molto facilmente se avete subito quello che ha subito Bo se non lo avete mai subito vi arriverà molto dopo ma non è un film incomprensibile è un film comprensibile molto comprensibile molto facile che viene anche spiegato nel finale quello che non è comprensibile al pubblico medio è come un film possa offrire qualcosa di diverso dal solito cioè non un un classico thriller non un classico horror non una classica commedia ma una storia che vuole mettere evidenza su alcune dinamiche familiari molto dolorose quindi l'unica cosa incomprensibile non sarà nel film ma sarà nella vostra testa cioè il il cortocircuito è lì nel vostro nella vostra incapacità di comprendere che un film è un'opera d'arte è un'opera può essere un'opera d'arte può essere un'opera autoriale può essere l'espressione di un artista di una persona di una persona che nel momento in cui si esprime diventa artista quindi non necessariamente solo un prodotto di intrattenimento o un prodotto di fanservice come può essere Mario Bros che fa esattamente quello che è giusto che faccia che deve cioè che fa esattamente quello che deve fare e giudicato come prodotto direi che è anche piuttosto buono però stiamo parlando di due cose completamente diverse il problema sta nel dove vengono erogati questi due prodotti cioè ci dovrebbero essere i cinema per questo film e i cinema per altri film quindi il rischio è che qualcuno vada a vedere Bo a paura perché gli è piaciuto Hereditary o perché gli è piaciuto Midsommar ma Bo a paura è completamente diverso da un certo punto di vista che è quello della trama che è quello del genere è completamente diverso da questi film completamente diverso quindi si va a vedere il nuovo film di Ari Aster per Ari Aster per l'artista per accogliere ciò che ha voglia di raccontarti questa volta questo è il tipo di approccio che questo film richiede non andate assolutamente se pensate che sia una commedia comica dove vi spaccate da rire non pensate a questo film come un prodotto perché non lo è dall'inizio alla fine quanto mi è piaciuto sono sicuro che questa cosa alcuni di voi ci stanno pensando mi è piaciuto un casino un casino mi è piaciuto tantissimo proprio in un modo incredibile proprio perché è un film che non vuole piacere è un è un incubo ma è anche un sogno è doloroso ma è anche dolce è triste ma è anche ridicolo è una grandissima espressione dell'esistenza umana e sono sicuro che nelle dinamiche che vedrete già all'inizio del film quindi non è spoiler le dinamiche tra Bo e sua madre soprattutto non ha telefonato all'inizio noterete state attenti proprio ai dettagli ai dettagli non pensatelo come a un film pensatelo come se stesse guardando la vita reale come se stesse stesse lurcando una telefonata tra due vostri familiari dove fate caso a ogni pausa a ogni uso delle parole ecco in quella telefonata lì voi riconoscerete tantissimi problemi psicologici e relazionali che avvengono nelle famiglie quindi è un film che potete assolutamente capire tutti ribadisco potete capirlo ma non so se tutti sono pronti per accettare il fatto che il cinema non è solo uno strumento di intrattenimento di passatempo o un luogo dove andare a mangiare i popcorn e lanciarli in giro a me è piaciuto un casino un casino ed è la sensazione che provo qualcuno di voi potrebbe chiedermi ti è piaciuto più questo o più Mitzhom più questo o più Redditori qual è che ti è piaciuto di più? la cosa bella di Ari Aster è che io non riesco a pormi questa domanda non riesco a rispondere perché ogni volta mi ha dato qualcosa di diverso e è un qualcosa a cui io non posso fare a meno non posso fare a meno di Mitzhommer di quel tipo di cinema come non posso fare a meno di Bo ha paura Bo is afraid spero di avervi detto tutto spero di avervi detto tutto allora c'è una cosa che mi ha incuriosito il film fa ridere nel senso che fa sorridere almeno a me ha fatto sorridere però questo è anche molto soggettivo perché in sala c'era gente che rideva sguaiatamente rideva tanto alle scene che era giusto cioè non è che rideva a caso come poteva succedere nella scena di sesso di Mitzhommer dove ci sono tutte le donne del villaggio che aiutano e sostengono i due che stanno copulando allora la gente in imbarazzo pensando che sia una scena comica ride non è la stessa cosa Ari Aster mette dei momenti comici all'interno del film e questa è una cosa che ho apprezzato ed è una novità lo fa con grande discrezione con grande con stile e su di me hanno avuto un effetto comunque di leggero quindi anche soggettivo altre persone hanno riso molto per questo film quindi potrebbe anche risultare per come siete fatti voi molto più divertente in termini proprio comici ma non per non una comicità involontaria ecco una comicità comunque voluta niente questo spero che adesso io mi sono neanche segnato degli appunti io volevo farvi vedere scusatemi porca troia che cazzo mi ha messo la roba mi hanno regalato una borsa vabbè una borsa di I Wonder Picture che è la casa di distribuzione del film e una maglietta di Bo che è fatta con lo stampato sopra il pigiama di Bo e non non ce l'ho qua porca troia vabbè la trovate su Instagram ho fatto la foto di Bo